Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo, di scegliere una cosa, una cosa sola e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita, saresti capace. E così finisce il film? No, comincia così. Poi incontro la ragazza della fonte, è una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. E' bellissima, giovane, antica, bambina e già donna, autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Se ci sono un'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua per l'acqua. Grazie.